E' una battaglia di civiltà. Con questa frase i componenti del comitato ciclovia del Metauro chiedono a gran voce di tornare al vecchio percorso che affiancava l'ex ferrovia Fanurbino. Infatti la regione ha modificato il tracciato che per il comitato è meno sicuro e non lineare. Ed eccolo qua. L'attuale parte dalla zona della stazione ferroviaria Fano, prosegue per viale 12 Settembre, via Montegrappa, via Palazzi, Negusanti, 4 Novembre e via Fossa di Sant'Orso per poi proseguire in via Galilei lungo la strada comunale del Cimitero, in via Einstein, strada Bellocchi e Attilio Regolo Cucurano. E' ancora nelle vie Flaminia, Arno e Torno. Da qui va ad affiancarsi alla ferrovia fino a Lucrezia, la circonvallazione Kennedy e poi in via Le Gramsci, via della stazione e Calcinelli, dove arriva in una strada larga soltanto 4 metri, di cui due occupati dalla stessa ciclovia. Questo percorso per il comitato non corrisponde a quanto previsto dalla legge. Deve avere delle caratteristiche di continuità ma soprattutto di sicurezza in modo da consentire a chi va in bicicletta di muoversi nei due sensi di marcia. Analizzando i percorsi pubblicati, molto spesso lo spazio per un doppio senso di marcia non c'è. E poi il percorso appare molto spezzettato, poco attraente, per cui è difficile pensare che, per esempio, una famiglia in vacanza con dei bambini possa pensare di percorrere strade pericolose e trafficate. Il progetto precedente, prosegue Tosi, passava invece un metro e mezzo di distanza dai binari, lontano dal traffico automobilistico. Il costo complessivo sarebbe stato sempre di 4 milioni e mezzo, comprensivi di IVA e spese tecniche, e il tracciato non avrebbe impedito nemmeno la realizzazione del treno turistico. Anche se, per il comitato, quella sulla ferrovia è una legge fantasma, sarebbero necessari 120 milioni di euro per realizzarne una ex novo, visto che quella attuale è stata chiusa nell'87 e dismessa nel 2011, senza contare i disagi ai cittadini e la svalutazione delle case vicine. Un altro rischio grosso è questo, che la ciclovia dei due mari, dall'Adriatico al Tirreno, venga depennata dal progetto denominato Bicitalia, nel caso specifico è la numero 18, che prevede già dei percorsi in Umbria e in Toscana. Nelle marche, vista la configurazione e come è messo per i problemi del traffico, dei pericoli, della mancanza di spazio, bene, questa non è una ciclovia e quindi corre il rischio di essere depennata dal progetto nazionale di Bicitalia. Non faremo ricorsi, ha precisato invece Renzo Rovinelli. Il nostro obiettivo è quello di aprire un confronto con gli organi preposti. In soli due mesi il comitato ha raccolto 5.300 firme. Renzo, lei vuole lanciare un appello al presidente Acquaroli? Poiché è stato approvato il decreto legge 56 del 30 aprile, che ha posticipato tutte le scadenze, per cui non è più quella del 31 dicembre 2021 per certi procedimenti amministrativi, ma slitta il 31 dicembre 2022, io mi appello, dopo tutto quello che è avvenuto, a ripensare a questa idea che sta mettendo in difficoltà anche tanti amministratori locali di aree di appartenenza all'attuale giunta regionale, di ripensarci, di valutare attentamente, perché quello che stiamo vedendo è una cosa che non ha nulla a che fare né con il principio della norma né con il finanziamento che è arrivato. Quindi mettiamoci intorno al tavolo, studiamo un percorso, qualcosa che abbia un'attenenza, ripensateci perché questa è la cosa che a noi ci interessa di più, cioè quella che un bene comune possa tornare ad avere un uso collettivo.